Il ricavato, vero Presidente, servirà per l'acquisto della batteria del defibrillatore che è in dotazione della SOSD Vazzanese, quindi il ricavato servirà per l'acquisto delle batterie che sono molto costose, ci sono anche in vendita presso da Nino Fattorino cioè Nino Tromba, i calendari della sfilata di agosto Sì, vediamo Vediamo Allora, gli diceva qui il sindaco che innanzitutto l'incasso dei calendari andrà alla Vazzanese andrà alla Vazzanese per... andrà alla Vazzanese andrà alla... allora il ricavato dei calendari di comuni accordo andrà alla Vazzanese che quest'anno come ben sapete non ci nascondiamo abbiamo dei gravi problemi economici dico gravi perché forse qualcuno non lo sa ma i dirigenti hanno forzato diciamo e bambi e bambi e bambi